Ecco le situazioni che generano più ansia al giorno d'oggi La prima La tua password è errata Merda La seconda Quando ti arriva un messaggio che ho scritto Noi dobbiamo parlare Ma chi era ma scritto che vuole parlare? Brutto, sei? Dai veloce, che stiamo facendo? Dai veloce, non sono messaggi secchi che stiamo arrivando La terza Tochi la tasca e non trovi il cellulare Merda, il cellulare E provate a guardare in tasca? No, dai Buon appetito Ciao